Ha avuto la prontezza e il sangue freddo di reagire in un momento, penso, critico. I ladri tentano di aprirgli il furgone e rubare il carico, ma lui li rincorre finché non lasciano il bottino. È successo pochi giorni fa al titolare del metro bar pizzeria di Via Alfieri a Cornedo. L'uomo, che preferisce rimanere anonimo dopo essere andato ai monopoli di Stato di Vicenza ad acquistare delle sigarette, che vende regolarmente nel suo negozio, aveva fatto una tappa alla banca di credito cooperativo lungo la provinciale 46, sempre a Cornedo. Erano le 11 del 7 novembre. Dall'istituto di credito il commerciante si era accorto che due uomini, nel parcheggio esterno, gli avevano spaccato il finestrino del furgone ed avevano afferrato uno scatolone contenente sigarette per il valore di 3.000 euro. Preso dall'adrenalina, hanno rincorso i due malviventi che hanno aperto di forza il portellone del mezzo per farsi da scudo. Il commerciante è così rimasto ferito a causa del colpo. Nonostante ciò, è riuscito a far fuggire a mani vuote i due rapinatori. La vittima, tramite il suo avvocato, ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale. Da parte mia personale, da parte dell'istituzione che rappresento, c'è vicinanza a questo grave fatto che ha interessato il nostro territorio. Un fatto che presumo comunque derivi da una pianificazione ben precisa rispetto a quello che è il lavoro svolto a questo tabaccaio. La notizia della rapina si è presto diffusa anche a Valdagno, dove risiede il commerciante, ma soprattutto tra gli avventuri del bar e ristorante gestito dalla vittima della rapina. A me è un fatto gravissimo, non dovrebbe succedere assolutamente. Sapevo spesso qua, è uno gentile, bravo.